La primavera è la primavera di una madre, una donna che ha vissuto per lungo tempo per la sua figlia e poi quando la figlia è partita da casa è stato un momento molto difficile per lei e allora in questa notte, perché il film si passa in una notte, lei ritrova un po' la gioia della vita e la gioia di vivere per se stesso. Il cinema italiano è molto famoso nel tutto il mondo, allora sì, mi piace anche a me, però se parliamo del cinema contemporaneo mi piace molto Alice Rohrwacher perché penso che è un autore molto interessante, molto particolare. Penso che il consiglio più importante è di fare, di provare, di sbagliarsi e fare ancora.